Taufik Mi chiedevo se poteva essere così gentile da indicarmi il centro culturale arabo Qui non c'è nessun centro culturale arabo Non c'è cultura né israeliana né araba Qui non c'è proprio cultura Allora Volete un caffè? Sì No grazie, non si disturbi Come sto? Davvero molto bene Simone ha scritto un concerto Non è un vero concerto E poi non l'ho ancora finito Caleb Papi Quindi tu con una ragazza non hai mai... E com'è? Te lo posso spiegare Ma solo in arabo Mia madre, mia sorella e io guardavamo i film egiziani e piangevamo tutte le nostre lacrime La mia vita è un film arabo Forse questo è il finale Così inaspettato Né triste Né allegro Faccio in Grazie a tutti